La terza Commissione Ambiente, presieduta dal consigliere Adele Castellana, in virtù delle proprie competenze, ha elaborato una proposta di regolamento in merito alla concessione di un contributo alle famiglie residenti nelle zone rurali non servite da rete idrica. Tali famiglie, infatti, sono costrette ad approvvigionarsi facendo ricorso ad un servizio privato di autobotte, affrontando spese certamente superiori rispetto a quanti risiedono nell'ambito del perimetro urbano. La proposta ideata dalla Commissione prevede la corresponzione di un contributo pari al 50% del costo sostenuto dai richiedenti per una fornitura mensile, sino ad esaurimento delle somme inserite nell'apposito capitolo di bilancio. Si attende adesso il vaglio della proposta da parte degli uffici competenti. La Commissione, nell'occasione formata dai consiglieri Castellana, Tuminelli, Mazza, Dornetto, Doro, Falcone e Visconti, auspica che il nuovo regolamento possa presto ottenere l'approvazione del Consiglio Comunale in modo da essere operativo per l'inizio del nuovo anno. Questo regolamento nasce innanzitutto dalla collaborazione dell'intera Commissione e da parte di tutti i componenti, con il contributo da parte di tutti i componenti. Speriamo, noi ci ospichiamo che questo regolamento arrivi agli uffici e venga portato subito in Consiglio Comunale, così da poterlo approvare e quindi dare questo piccolo sollievo a queste famiglie.